il pezzo di dietro a zero, vediamo un po' che cosa ha in mente il nostro mago Gargamerda? bravo, in terza a zero, in seconda a terza un po' di piede, anche io ho sbagliato il pensilame, sono giù un piede, è un po' viscido io l'ho fatta tre volte a zero, in seconda non ce la faccio a farlo a zero eh, a terza è meglio, vedi, rimane un po' più pronta bravo mi piacciono le salite basta, parcavi dentro l'altro bravo 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Va bene. Sì, sì. 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 Sì.